Buonasera a tutti e benvenuti alla dodicesima puntata di Turin for ATP Finals trasmissione di avvicinamento ora di accompagnamento poi al grandissimo evento che Torino ospiterà dal 2021 al 2025 appunto le ATP Finals al Pala Alpitura un saluto al nostro staff alla destra alla mia destra e un grandissimo saluto e un onore questa sera avere con noi un grande campione come Gianni Ocleppo grazie a voi sono contento di essere qui tra l'altro vi seguo alla sera con piacere, è una trasmissione che seguo volentieri grazie Gianni, ricordiamo ex numero 30 del mondo ATP e inizierei proprio con lui chiedendogli come sei arrivato al tennis sono arrivato quasi per caso avevo circa 11 anni che ormai è un'età quasi difficile da pensare che si possa iniziare perché a 11 anni sono quasi professionisti al mare in Liguria mio padre mi portò a un campo da tennis che c'era lì a Noli iniziamo a giocare così quasi per gioco per scherzo come è giusto che sia quelle da lì e poi mi piacque molto e da lì cominciai a fare i tornei ecco un inizio diciamo tardivo per l'attualità però un inizio che subito ha avuto un'esplosione importante perché tu a 16-17 anni facevi già i primi tornei internazionali ATP sì a 16 anni 17 ho iniziato a giocare a 16 anni l'Orange Ball a Miami dove ho raggiunto la finale ho vinto anche un anno dopo sono stato la Federtennis mi prese a Formia lì per un paio d'anni perché il college non era a Tirregna come adesso ma è a Formia e poi da lì iniziai poco per volta a giocare le qualificazioni ai tornei ATP e a qualificarmi a 19 anni per il Roland Garros che era il primo slam che giocai i migliori anni della tua carriera diciamo a fine anni 70 inizio anni 80 con particolari esplosioni sì beh ho vinto un ATP un torneo ATP come adesso sono i 2.50 praticamente all'Inz in Austria battendo Edmondson che aveva vinto gli internazionali d'Australia quell'anno lì e poi ho giocato diverse finali adesso non me ne ricordo tutte però mi sembra Bordeaux Bologna Metz Metz poi due semifinali che erano l'equivalente dei Master 1000 di adesso che erano Wembley dove persi da Mechero e Milano il grande torneo di Milano dove persi lottando molto con Borg ecco due nomi non indifferenti parliamo appunto di Borg col quale perdesti ma perdesti di misura insomma altri grandissimi campioni come un ricordo di Borg ma prima di dirti di un ricordo di Borg si parla spesso e troppo non troppo per carità sono stati due grandissimi campioni Borg e Mechero però sono quelli più mediatici perché sono i capitani per esempio della Lever Cup Mechero per gli Stati Uniti per il resto del mondo e Borg per l'Europa si parla poco di Jimmy Connors per me è stato il più grande giocatore per me naturalmente quindi voglio dire altri possono pensare altri giocatori per me è stato quello che mi ha entusiasmato di più da quando io gioco a tennis fino ai giorni d'oggi perché è quello che tra l'altro è quello che ha vinto più tornei di tutti non come Slam ma come ATP ne ha vinti mi sembra 110 si parla poco di lui perché è una persona molto schiva io ho avuto il piacere e l'onore di giocare contro di lui e di allenarmi tanto con lui come con Borg sono due grandissimi campioni che ricordo volentieri ma un pensiero particolare a Jimmy Connors tra l'altro Connors è stato un antesegnano perché adesso diciamo tutti che le carriere si sono allungate e Connors è stato un esempio Connors è stato ha giocato l'ultimo Slam credo a 39 anni contro Michael Chang a Parigi sulla terra quindi dove faceva molta fatica a giocare dove non giocava volentieri e al quinto set si ritirò disse all'arbitro non ce la faccio più non riusciva più ad alzarsi dalla sedia dopo 4 ore e mezza contro Chang che aveva la metà dei suoi anni quindi anche un esempio di umiltà al di là di umiltà si è stato veramente poi non c'era nessuno come lui che riusciva ad arringare la folla e io mi ricordo tante partite soprattutto lo US Open perché lui non usciva volentieri dagli Stati Uniti si veniva a giocare Wimbledon Parigi ha giocato poche volte però io ho giocato una partita contro di lui a Memphis nei quarti di finale in un altrettanto torneo importante e quel venerdì sera lì c'era veramente un'elettricità nell'aria che che non mi scorderò mai certo invece tornando a Borg e Meccaro quali caratteristiche ti hanno colpito maggiormente sia come tennisti che come persona ma come persona Meccaro non è che lo conosca molto bene ho avuto anche qualcosa così di non proprio simpatico durante qualche partita Borg lo conosco molto meglio mi sono allenato con lui per dieci anni praticamente a Monte Carlo lui del 56 io sono del 57 quindi eravamo quasi coetanei tutte le mattine alle otto e mezza lui arrivava con Bergelin che era il suo allenatore che è tragicamente scomparso mi allenavo tutte le mattine con lui è stato un grandissimo professionista poche parole però un ragazzo molto serio con il quale ci si allenava molto bene e anche umile lui ecco Borg a differenza di Conos invece a 26 anni ha smesso secondo te per quale ma io penso che adesso credo che lui abbia smesso perché non ce la faceva più da un punto di vista mentale se voi guardate le partite è l'unico giocatore che non ha mai avuto una reazione in campo anche partite molto lunghe non ha mai discusso con l'arbitro se non una volta che ha fatto vedere un segno negli Stati Uniti dove gli hanno rubato una partita incredibile contro me che non c'era l'occhio di Falco e quindi negli Stati Uniti quell'arbitraggio lì me lo ricordo in maniera particolare poi ha giocato talmente tanti tornei che credo avesse avuto un po' di saturazione poi ha provato a rientrare l'anno dopo credo al torneo di Monte Carlo però non era più lo stesso non era più gli automatismi gli stessi stimoli esatto parliamo di un altro tuo avversario storico Jimmy Arias sì Jimmy Arias era numero 5 del mondo ho giocato tante volte contro di lui l'ho battuto a Houston un anno 7-6 al terzo poi un altro anno ho vinto due volte però ho perso di più naturalmente mi ricordo ancora adesso anzi non vorrei ricordarla però non posso dimenticarmi di un match che ho giocato contro di lui mi sembra negli ottavi di finale a Wimbledon dove ho perso 7-5 al quinto e dove avrei potuto vincere però sono cose che nel tennis devi sempre mettere in conto in quanto durante un anno ci sono delle volte che puoi vincere partite col match ball contro e a volte partite che perdi con il match ball a favore quindi fa parte nel tennis è difficile da digerire da far capire ai ragazzi alle ragazze che giocano però fa parte di quello che stai facendo della bellezza nella bellezza è anche un po' meno di bellezza dell'aspetto però devi essere molto forte mentalmente per superare questo tipo di ostacolo uno dei tanti che si presentano ecco tu sei stato un grande giocatore anche in Coppa Davis diciamo un capitolo della tua carriera hai vissuto proprio l'era che stava terminando dei moschettieri e quella successiva sei stato anche l'eroe a te l'eroe di tre giorni sì abbiamo giocato quel match lì tra l'altro io ho esordito in Coppa Davis proprio qui a Torino al Monviso credo nell'80 contro la Svizzera contro la Svizzera al Monviso poi ho giocato diversi match in Coppa Davis in Australia eccetera e a Telford contro l'Inghilterra vincemmo per 3 a 2 io vinsi due singolari quello decisivo contro John Lloyd in un match dove veramente forse giocai il mio miglior tennis ecco Coppa Davis nel prossimo 6 e 7 marzo l'Italia scenderà nuovamente in campo a Cagliari contro la Corea non è un match così diciamo scontato è un match sulla terra però bisogna giocarlo sì diciamo che è un buon tabellone perché poteva capitarci di peggio però come tu hai detto giustamente i match in Coppa Davis non sono mai facili nascondono sempre delle insidie io non ho mai visto a meno che io non giochi contro il Lussemburgo o Andorra o il Vaticano il Vaticano è una squadra però però giochi contro questi staterelli è sempre difficile la Corea del Sud ha due o tre buoni giocatori arriveranno sicuramente molto preparati noi rimaniamo comunque favoriti anche perché non sappiamo ancora con chi scenderemo in campo perché Berrettini non ha ancora dato il suo assenso assoluto perché è in fase di recupero Fognini sta vivendo un momento diciamo non di transizione ma sta cercando anche lui di recuperare da un momento fisico non eccezionale beh diciamo che io ho seguito Berrettini quest'inverno a Monte Carlo non ha potuto completare la preparazione perché ha avuto un problema alla gamba anche una mezza pubaggia quindi in Australia ci è andato perché comunque doveva giocare uno slam ma non è arrivato al meglio della forma abbiamo visto quello che è riuscito a fare lo scorso anno giocando un tennis straordinario quindi se decide di giocare il capitano lo deve schierare perché poi è tra l'altro il numero uno d'Italia numero otto del mondo Fognini come sono d'accordo con te dipende un po' dalle sue motivazioni da quello che riuscirà a fare non ha iniziato l'anno benissimo anche se ha giocato un gran torneo in Australia perché ha perso gli ottavi di finale contro mi sembra Sandgren un match che era la sua portata e quindi da Fognini ci si può aspettare sempre di tutto e di più se avrà voglia di sacrificarsi perché era ancora per un paio d'anni secondo me potrebbe ancora fare la differenza Ecco Fognini che proprio oggi ha perso a Dubai nel primo turno rientrava dopo aver giocato Marsiglia quindi appunto non è così semplice ritrovare uno standard di altissimo livello Sì anche perché le sue motivazioni non sono più quelle di qualche anno fa è padre di due figli quindi probabilmente la sua attenzione potrebbe essersi spostata su qualcos'altro ha detto che non ci si doveva aspettare molto da lui in questo torneo in quanto arrivava poco preparato ma ripeto ci ha fatto vedere negli anni scorsi che quando gioca bene su qualsiasi superficie io mi ricordo un quinto set che ha fatto contro Nadal anche qui lo staff tecnico si ricorderà sicuro assolutamente contro Nadal io non ho mai visto nessuno giocare come Fognini quel quinto set lì cioè ha fatto 18 vincenti contro Nadal quindi voglio dire è stato un match che ho commentato tra l'altro in televisione e mi sono veramente divertito a proposito della tua passione tennistica c'è anche una passione per il commento televisivo che nasce come e nasce quando nasce tantissimi anni fa con il compianto Guido Oddo sicuramente vi ricorderete che è stato un grande telecronista per la RAI poi ho avuto un'esperienza con Giampiero Galeazzi a Parigi durante appunto l'Open di Francia per un paio d'anni e poi gli ultimi 12 anni ho commentato per Eurosport tutti gli Slam che loro avevano a disposizione adesso mi limito a commentare per Super Tennis gli internazionali d'Italia il maschile i quarti semifinale e la finale e poi la Coppa Davis il girone finale che ho commentato anche lo scorso anno quello da Madrid e bisogna anche prepararsi per commentare non solo per giocare assolutamente è diverso però comunque uno un appassionato riesce a capire se un un telecronista è documentato si documenta sa quelli che sono i risultati eccetera se invece uno lo fa così diciamo che è più difficile giocare che commentare secondo me però comunque anche a commentare ti devi prendere le responsabilità e devi dire quello che pensi a volte non tutti sono d'accordo con te torniamo a Giannio Cleppo giocatore tu sei stato un altro diciamo elemento di congiunzione tra per quanto riguarda i materiali le vecchie racchette di legno e le prime racchette in fibra c'è stata così tanta evoluzione e come l'hai vissuta l'ho vissuta come quelli della mia della mia epoca perché il tennis con legno era una cosa completamente diversa da quello della grafite c'erano non soltanto le racchette ma le palle erano diverse i materiali le scarpe erano diverse quindi c'è stata un'evoluzione importante nel mondo del tennis e quando si è iniziato a giocare con la grafite la palla scorreva andava molto più veloce soprattutto al servizio perché sul collegno più di 160 150 km orari non riuscivi a battere a servire quindi invece con la grafite già nella mia epoca c'erano giocatori che servivano sopra i 200 km orari quindi anche le rotazioni iniziavano erano diverse sì erano diverse con legno era più difficile Borg riusciva a dare delle rotazioni che se avesse giocato con la grafite io non so che rotazione avrebbe per quanto riguarda invece i grandi personaggi che tu hai conosciuto oltre ad essere stato un grande personaggio i moschettieri come vedevano i nuovi era un rapporto un po' particolare i moschettieri italiani dicevi certo non quelli francesi i moschettieri nostrani non quelli del Roa Soleil no i nostri i nostri moschettieri io ho avuto un rapporto abbastanza buono con loro mi hanno aiutato soprattutto Adriano Panatta che era molto più grande di me io sono del 57 lui del 50 Barazzuti Bertolucci e Zugarelli io arrivavo un pochino dopo quindi tendevano a fare squadra e infatti ho avuto difficoltà ad entrare nella squadra vera e propria della Davis però poi ho avuto anche le mie occasioni le ho sfruttate quindi non ho avuto un brutto rapporto con loro mi ha parlato di Telford il ricordo più importante che hai della Coppa Davis è quello oppure altri no è quello per quello che mi riguarda però mi sarebbe piaciuto giocare la finale del 1980 contro gli Stati Uniti o del 79 adesso c'è una confusione per la normale perché sono passati tanti anni contro gli Stati Uniti a San Francisco dove Bitti Bergamo l'allora capitano di squadra mi disse che avrei giocato nel singolare no al posto di Barazzuti però purtroppo a novembre lui morì in un incidente di macchina e quindi quello che era secondo a Bergamo che era Vittorio Crotta che tra l'altro saluto so che non sta bene mi dispiace lo saluto volentieri non si sentì di cambiare la squadra quindi giocavano panate e barattuti per demo comunque contro me che ero giro light sarei perso sicuro però sarebbe stata un'esperienza importante ecco hai ricordato due grandi allenatori Bitti Bergamo e Vittorio Crotta Mario Melardinelli meglio di tutti nettamente meglio di Bergamo e anche di Crotta anche se Crotta era un allievo di Bellardinelli però Mario Bellardinelli secondo me è quello che ha fatto vincere in Roland Garros Adriano Panatta è quello che ha portato Bertolucci che non aveva proprio un fisico una silhouette lo chiamavano pasta kid gli americani quando giocavano che era uno un po' più comunque grazie proprio a lui credo che non tanto Barazzuti perché Barazzuti era un giocatore un pochino più a sé stante ma soprattutto Panatta e Bertolucci devono tanto a Mario Bellardinelli che aveva una grande grossa personalità e rimane ancora oggi forse l'allenatore migliore del nostro sport ecco il tennis è cambiato molto continua a cambiare secondo te rispetto ad altre discipline ha avuto delle evoluzioni maggiori oppure no? altre discipline non è che le conosca così bene quindi non so fare un rapporto però per quello che riguarda il tennis si gioca molto più veloce se voi andate a vedere la finale dell'81-82 Villander Villas a Parigi che erano i due giocatori più forti sulla terra battuta sembra che voi vediate una partita alla Moviola cioè giocavano talmente più piano di quanto non giocano adesso non dico gioco vice Federer ma di quanto giocano adesso un secondo un terzo turno di uno slam qualsiasi perché le palle sono cambiate le attrezze sono cambiate l'alimentazione è cambiata ci si prepara meglio si è più professionisti di conseguenza poi la palla va ad una velocità completamente diversa ecco oggi si gioca anche molto di più ne parlavamo prima voi giocavate meno e avevate anche più tempo per prepararvi sì però era una carriera diversa noi a 30 anni si smetteva cioè il 90% dei giocatori di tennis me compreso a 30 anni attaccavano la racchetta al chiodo adesso la miglior classifica si ha da 28 a 33 perché ci sono tanti nei primi 100 della classifica mondiale ce ne sono mi sembra 65-70 che hanno da 29 a 34 anni quindi il tennis è veramente cambiato anche se si gioca di più ci si programma meglio sia più professionali e professionisti e di conseguenza la carriera io credo che la prossima stricella sarà intorno ai 40 anni ecco che era impensabile 20 anni fa 30 anni fa era impensabile che se ci potesse arrivare a 40 anni ancora essere adesso c'è qualcuno c'è Carlovic c'è Federer Seppi è arrivato in finale a New York che ha 36 anni quindi adesso sono questi i primi che mi vengono in mente ma ci sono anche altri ecco quindi le difficoltà diciamo sono cambiate però anche i metodi di allenamento assolutamente l'alimentazione è importante l'alimentazione una volta si faceva meno attenzione si poteva mangiare pasta al pomodoro riso adesso ci sono poi questi fenomeni ricordiamo soprattutto i giocović che fa dell'alimentazione veramente un credo in maniera ossessiva quasi se vogliamo però ha ragione lui perché attraverso non soltanto questo ma anche questo tipo di alimentazione ha vinto 17 slam ecco un altro aspetto che forse è cambiato molto tu in alcune interviste l'hai sottolineato è che non c'è più il cameratismo di una volta no non c'è più il cameratismo di una volta perché i giocatori sono più distaccati ci sono più più soldi di quanto non si non si avesse noi io mi ricordo che a vincere un turno a Parigi c'erano circa l'equivalente adesso mettiamo di 6-7 mila dollari adesso a perdere il primo turno mi sembra ci siano 58 mila euro quindi più soldi ci sono più professionisti si è meno amicizia ma non è che non siano amici si rispettano sicuramente sono grandissimi giocatori migliori di quelli della nostra epoca però non stanno negli stessi hotel hanno tutti girano con allenatore fisioterapista mental coach chi più ne ha osteopata che avete anche qui quindi voglio dire c'è un team il giocatore sta con il proprio team e ha meno tempo di scherzare ridere oppure di andare a cena come si faceva una volta con altri giocatori ecco questo forse è un aspetto meno edificante diciamo si diciamo che però fa parte della vita in generale dello sport di conseguenza dobbiamo accettarlo che ci piaccia o no ecco facciamo prima una riflessione di livello e di valori oggi il numero 80 del mondo può battere cioè tra il numero 80 e il numero 300 non c'è più questa grande differenza quindi assolutamente assolutamente una volta ne parlavo proprio ieri al telefono con Francesco Cancellotti voi vi ricorderete è stato un grande giocatore Perugino Perugino un po' più giovane di me una volta 150 al mondo non poteva battere il numero 20 il numero 30 adesso il numero 300 se sta bene se è in forma può battere il numero 40 del mondo non c'è più questa grande differenza di conseguenza anche questo fa sì che sia più difficile emergere però ci sono delle settimane in cui un giocatore che è numero 70 80 60 120 del mondo vedi Magher la settimana scorsa che ha fatto un grandissimo torneo è arrivato in finale in un ATP 500 e ha battuto team non è che non abbia battuto nessuno di Magher parleremo della seconda parte della trasmissione quindi a volte è proprio una differenza anche di motivazione di capacità di dare continuità al potenziale che uno un giocatore può avere sì ma si allenano tutti nello stesso modo tutti fanno adesso tramite internet no a volte magari ci si allenava in maniera diversa Macaron faceva degli allenamenti diversi da quelli che poteva fare a Macaron a seconda anche del proprio stile di gioco adesso si allenano tutti 4-5 ore fanno le stesse cose gli elastici sono preparati quindi se stanno bene fisicamente la differenza è poca ed è mentale non è né fisica né tecnica lasciamo stare i grandi mostri Federer, Nadal eccetera che sono di una categoria superiore però un giocatore che è numero 30 al mondo se non sta attento al primo turno di Parigi può perdere con il numero 120 o con addirittura uno che arriva dalle qualificazioni allora dopo questo tuffo tra presente e passato per adesso ringraziamo Gianni Ocleppo e chiediamo e chiediamo alla regia di mandare in onda i consigli pubblicitari ben ritrovati in studio un piccolo contributo una sorpresa per Gianni Ocleppo da una persona che conosce molto bene prego regia di mandarmi in onda ciao a tutti volevo fare un saluto qui da Trento a voi della trasmissione a mio papà che so che è ospite da voi lì stasera e niente spero di poter proseguire il mio periodo positivo come hanno dimostrato gli ultimi risultati sia a Bangalore che a Bergamo e spero di continuare così come ho già detto vi auguro una buona serata ecco Gianni tuo figlio sta percorrendo il percorso appunto di giocatore professionista non è un percorso facile sta dando comunque dei segnali è un talento questo lo dico ma non perché tu sia qua perché l'ho sempre sostenuto è sempre difficile parlare di una persona così cara come può essere mio figlio però io credo che tu hai detto io penso che giochi bene la strada è molto difficile e lunga perché come abbiamo già ricordato prima ci sono tantissimi giocatori che giocano bene e lui è uno di questi ultimamente come ha detto anche lui ha fatto due o tre buoni risultati è un ragazzo che ha 22 anni e che è maturato un pochino più tardi rispetto a quelli della sua generazione che giocano meglio però penso che abbia le carte in regola per potersi divertire e per fare qualche buon risultato intanto vincere cioè arrivare in semifinale in India battere Ivasca che è un giocatore di grande valore non è assolutamente facile no ha dimostrato di poter giocare ad un buon livello perché Ivasca è stato mi sembra 80 del mondo è numero 80 del mondo ha giocato una partita importante vincendo per 6-4 al terzo quindi gli dovrebbe dare fiducia naturalmente le strade la strada è molto difficile però io credo che come ho detto prima possa prendersi qualche bella soddisfazione intanto ha vinto il torneo di doppio a Bergamo proprio sabato scorso perché lui è anche un ottimo doppista anche se lo gioca per divertimento mi ha detto sì però gli serve perché io credo che il doppio non deve guardare la classifica di doppio anche se poi la guarda io so come come fanno tutti i giocatori ma io credo che il doppio serva soprattutto per migliorare alcuni colpi fondamentali al giorno d'oggi quali il servizio è la risposta perché tutto parte del servizio è tutto parte della risposta quindi il doppio a questa età gli deve servire a 22 anni ripeto gli deve servire per migliorare quei colpi fondamentali che gli possono permettere di fare quel salto di qualità anche in singolare grazie Gianni adesso passerei ad un dibattito col nostro staff partirei proprio con Luca Saccagno il nostro High Performance Coach quando tutto diventa scientifico e misurato le difficoltà aumentano oppure il contrario considerando che si è più preparati questo ha ancora spazio oppure no? allora beh innanzitutto parlando di alta prestazione dobbiamo sapere che le due parole chiave sono ordine e controllo l'aumento delle verifiche strumentali e quindi della scienza a supporto della massima prestazione consente di massimizzare il risultato e fornire dei parametri per un incremento della prestazione controllata organizzata e predisposta e non ultimo consente di smettere di barare quindi la prova scientifica è misurabile quindi è così per l'estero c'è sempre posto perché è un ingrediente insito nella persona quindi da lì nascono le giocate strutturate su una buona prestazione quelle che piacciono tanto al pubblico esatto esattamente passerei invece a Paolo Moro abbiamo parlato con Giannio Clepo di attrezzi che sono cambiati quanto sono cambiati era più difficile anche se è una domanda di non facile lettura giocare ieri oppure oggi buonasera Roberto buonasera a tutti i telespettatori un piccolo aneddoto quando il nostro ospite raccontava di Milano del 1979 allora noi su quegli spalti io e mio fratello eravamo presenti ovviamente a Tifario Clepo che rappresentava anche con orgoglio un tennista piemontese di cui noi sentivamo allora anche l'orgoglio della regione parlare di Telai parlare di Telai con un campione come Giannio Clepo è difficile specificarne le differenze lui è uno dei pochi giocatori che ha vinto tanto con la racchetta di legno e ha vinto ancora poi successivamente con la racchetta della nuova generazione quindi l'abbiamo visto con citiamo i marchi tanto non possiamo creare problemi sicuramente abbiamo visto giocare con la Maxima Torneo deluxe l'abbiamo visto in campo con la fila e poi successivamente quando ha rinnovato il contratto da un'azienda che portava il nome di un grande giocatore francese ha usato anche le racchette allora in fibra di vetro che divennero in graffite dirti cosa è cambiato è cambiato tutto il tennis la racchetta secondo me è quello che ha fatto diventare il tennis ancora più fisico proprio perché la velocità di palla ha obbligato delle preparazioni ma su questo sarebbe bellissimo parlarne perché ci sono degli studi da poter approfondire tutti insieme quindi sono veramente felice di poter essere qua ad ascoltare tutte le avventure di un campione come Giannio Clepo Alberto Moro è cambiato molto parliamo invece di appeal c'erano giocatori che avevano tanto appeal negli anni 70-80 ci sono gli attuali che ne hanno altrettanto ma il pubblico come vive diciamo questo rapporto buonasera a tutti anche qui è difficile fare un paragone con due epoche lontanissime perché ormai si parla di due epoche veramente molto lontane sicuramente abbiamo dei personaggi che negli anni 70 fino agli anni 70 hanno fatto probabilmente il collegamento con quello che in qualche modo è il tennis che oggi conosciamo quindi i Borghi i McHill per citarne due ma il nostro opere ha parlato di Jimmy Connors che effettivamente se ne parla poco ma è uno di quei giocatori che ha fatto veramente un collegamento diretto con l'evoluzione nostra erano storie poche lontane erano giocatori che diciamo hanno portato il tennis al grande pubblico forse il grande collegamento che si può fare con quell'epoca e con questa epoca che è sempre molto difficile è sicuramente che i Borghi McHill e Jimmy Connors hanno traghettato il tennis da essere uno sport un pochino più di nicchia a uno sport di grande impatto mediatico quindi grandi attenzioni grandi immagini grandi risorse anche dall'ora in avanti sono arrivate a essere spese per le informazioni per le sponsorizzazioni soldi che probabilmente prima non si immaginavano neanche certo i personaggi che abbiamo adesso sono personaggi che speriamo che durino ancora un po' ecco perché sicuramente sono personaggi talmente così importanti che è anche difficile sostituirli nel breve quindi abbiamo un ospite che può dare in questo contesto una risposta un parere a parere estremamente importante e dopo lo chiederemo a Gianni Ocleppo intanto passerei la parola ad Andrea Bianco abbiamo parlato di intensità di gioco una volta si giocava meno oggi si gioca molto di più quindi cosa cambia proprio a livello di preparazione a livello di osteopatia e di preparazione sotto questo punto di vista buonasera Roberto buonasera a tutti cambia tanto rispetto ad una volta perché adesso i ritmi sono forsennati si gioca sempre si gioca tutto l'anno bisogna preparare bene la stagione tornei in continuazione comportano un aumento dello stress sia fisico che mentale soprattutto perché sappiamo tutti che il tennis è uno sport sia fisico che mentale un aumento in questo senso provoca per forza di cose un aumento dei livelli delle sostanze infiammatorie e pro infiammatorie all'interno del corpo quindi questo di conseguenza provoca un aumento delle possibilità di traumi infortuni lesioni di qualunque tipo quindi ormai il tennista deve essere una macchina perfetta deve essere prima di tutto un atleta e successivamente un tennista ovvio per stare ai vertici del ranking ATP conta di più il tennis come diceva giustamente primo cleppo conta molto di più l'aspetto mentale rispetto a quello fisico o tecnico però per cercare di mantenersi e riuscire a gestire tutta una stagione bisogna essere preparati a 360 gradi quindi ormai c'è bisogno di uno staff completo quindi che sia il mental coach che sia l'osteopata il fisioterapista il dietista nutrizionista insomma c'è bisogno di un'attenzione massima quando invece una volta si poteva scegliere di più in che punto della stagione arrivare in forma per puntare di più su certi tornei adesso anche poi per scelta di sponsor uno deve comunque essere sempre sempre attivo perché esatto c'è dal punto di vista anche mediatico e social uno deve essere sempre presente anche quando non gioca deve essere presente far magari vedere spezzoni di allenamenti deve cercare di tenere sempre sull'attenzione ed è molto difficile perché comunque il rischio è poi di portarsi avanti un trauma e non riuscire a recuperarsi in tempo perché c'è l'ansia del perdere diversi tornei con montepremi sempre alti e quindi mai come ora e come punti perché sono poi in scadenza durano un anno e quindi è molto difficile bisogna preparare una macchina perfetta un atleta perfetto ancora prima del tennista per ogni momento e per ogni situazione esatto Ruggero Rivera lo scouting ai tempi di Gianni Ocleppo le aziende intervenivano in maniera così precoce oppure questo sistema è nato dopo e diciamo è molto più attuale guarda io ti posso dire una cosa io mi ricordo che alla Lambertenghi mi sono trovato con Barbera della Fila e Giavoni che individuarono precocemente una Monica Seles per cui credo che ci fosse già all'epoca chiaro che tutto quanto oggi è estremizzato perché non aspetti più la maturazione del ragazzo solitamente una giocatrice la vedi più o meno a 14 anni e capisci che cosa può fare è un ragazzo a 16 anni attualmente si cerca anche prima si cerca anche prima ma si può sbagliare molto di più per cui diventa diventa estremamente complessa la cosa comunque credo che già all'epoca c'erano dei personaggi degli osservatori che sapevano scegliere magari molto meglio di me grazie grazie Ruggero e chiediamo proprio a Gianni Ocleppo c'erano diciamo quando tu hai iniziato a giocare queste figure gli osservatori oppure erano più nascoste come si comportavano ti voglio dire una cosa che forse il tuo competentissimo staff tecnico che ha detto delle cose molto interessanti e che condivido forse non sanno però che proprio quello che ha dato la svolta al tennis professionistico è stato a metà degli anni settanta Ion Tyriac perché Ion Tyriac è stato il primo coach a seguire un giocatore come Villas prima ognuno andava per conto proprio c'era qualcuno che quando c'era la Coppa Davis aveva naturalmente la squadra e la federazione al seguito ma si girava da soli Villas è stato Tyriac è stato il primo giocatore a seguire Villas che tra l'altro è stato un grandissimo giocatore argentino che tutti ricordiamo a seguirlo torneo per torneo e poi da lì lui iniziò ad avere una serie di collaboratori che andavano a vedere quindi appunto fine anni settanta andavano a vedere i migliori giovani e poi si cominciava a fare i contratti con loro lui è iniziato a essere manager di lì ricordiamo Boris Becker ricordiamo Rille Cont e ricordiamo altri giocatori della mia epoca che erano tutti sotto l'assolututela anch'io sono stato con Tyriac per qualche anno perché lui voleva un giocatore in Italia mi scelse e mi servì moltissimo perché non soltanto a livello di contratti ma proprio anche a livello di imparare tante cose che uno come lui poteva insegnare della gestione proprio non abbiamo parlato torniamo un attimo di Landel tra i grandi giocatori del passato che tu hai incontrato cosa aveva Landel? sì io ho incontrato ho perso in finale della Coppa Davis a Praga nel 1979 credo 80 o l'ho battuto una volta in un torneo professionistico e ho perso di più di quanto ho vinto beh è stato numero uno del mondo naturalmente però era un mio amico ho condiviso anche all'inizio della carriera la camera con lui perché si cercava di risparmiare per come si poteva di conseguenza abbiamo fatto tante volte la camera insieme io mi ricordo che era un giocatore fortissimo dotato di un fisico straordinario e come tutti i campioni anche di adesso era molto molto determinato molto focus sul tennis pensava a quello esclusivamente a quello e ha avuto ragione perché ha ottenuto grandissimi risultati come sta cambiando il tennis dove sta andando e cosa succederà quando questi big 3 adesso magari un attimo al palo non ci saranno più ma questa è una domanda che si fanno in tanti e sicuramente il tennis perderà qualcosa nell'immediato come quando Tomba ha smesso di andare sugli sci in Italia è stato seguito ma non tanto quanto come quando sciava lui però io credo che the show must go on cioè voglio dire gli Zverev gli Zizipas Agliassim e altri giocatori non siano in grado sicuramente di ripetere i successi che hanno avuto Federer Nadal e Djokovic ricordiamo che questi 3 che ho nominato hanno vinto 57 slam in 3 lo dicevamo prima no? 57 slam in 3 dominato per 15 anni dominato gli ultimi 18 anni se voi guardate la classifica nel 2007 la classifica ATP i primi 3 erano Federer Nadal e Djokovic adesso sono Nadal Djokovic Nadal è Federer cioè non è cambiato niente quindi hanno dominato in maniera straordinaria il tennis sono 3 talenti superlativi prima di loro c'era Sampras Agassi ma non hanno vinto tanto quando hanno vinto loro questi hanno veramente fatto cioè Nadal ha vinto 12 anni il Roland Garros 12 anni il Roland Garros impressionante impressionante ecco tornando invece a Federer si è operato recentemente tornerà molto probabilmente per la stagione di preparazione verso Wimbledon credo Wimbledon ha detto dichiarato che giocherà a Wimbledon secondo te come tornerà? Federer è l'eccezione che conferma la regola normalmente con un giocatore che si avvia ai 38 39 anni come Federer dopo un'operazione ne ha già subito una ed è ritornato alla grande uno può dire ma magari non ha più tanti stimoli però lui è talmente tanto gli piace talmente tanto giocare gioca con talmente tanta facilità Federer è uno dei pochi che non si è mai ritirato durante un incontro mentre Djokovic Murray e Nadal a volte il ginocchio a volte la spalla si sono ritirati durante gli incontri anche durante i tornei non entrando in campo lui ha sempre giocato avete notato anche che Federer non suda mai guardate Federer dopo 5 set quanto è sudato gli altri si cambiano 20 volte la maglietta lui non se ne cambia mai è proprio uno che il tennis ce l'ha dentro gioca in maniera straordinariamente facile sembra che abbia un fioretto in mano non fa assolutamente fatica a differenza di quanto possono fare gli altri che abbiamo nominato prima da Federer ci si può aspettare tutto può anche tornare e giocare un grande Wimbledon non so vincere ma potrebbe anche fare ancora la differenza la sua naturalità è sicuramente unica quindi può stupirci sotto ogni punto di vista abbiamo parlato prima di tennis italiano abbiamo accennato a Fognini abbiamo accennato a Berrettini parliamo di questo Sinner questo Sinner che sta diciamo esplodendo sta tenendo fede a tutte le attese non è facile però farlo a 18 anni a Rotterdam è riuscito a fare un bel percorso poi ha perso contro Carragno Busta insomma non è automatico per me è un predestinato è uno che se non succede niente di strano è molto ben seguito ma la sua mentalità è quella del campione viene da una parte d'Italia ricordiamo Seppi alto attesino quindi già parlano poco Seppi è uno che veramente ha dimostrato di giocare molto bene al tennis ha fatto una gran carriera è arrivato a essere il numero 18 del mondo Sinner può fare ancora meglio dovrà dimostrarlo sul campo però i numeri li ha la mentalità è quella giusta se sarà accompagnato dalla fortuna che non avrà appunto dei grossi problemi fisici io penso che possa regalare tante soddisfazioni ai tennisti ai appassionati di tennis in Italia ecco con Medvedev per esempio la scorsa settimana ha vinto un primo set in maniera spettacolare 6-1 e poi Medvedev da gran giocatore qual è ha avuto una reazione quindi è ovvio che a 18 anni questo si può tra virgolette subire sì poi ricordiamo che questo Sinner comunque è una pressione importante perché ogni cosa che fa viene amplificata dai media in Italia dagli addetti ai lavori quindi tutti guardano quello che fa come hai detto tu a 18 anni diamogli tempo perché sicuramente non è Nadal Nadal a 17-18 aveva già vinto Parigi questo non succederà quest'anno con Sinner ma è uno che secondo me può arrivare ad aspirare già alla fine dell'anno prossimo essere tra i primi 20 giocatori del mondo certo e con lo spirito di emulazione nell'ambito del movimento italiano pare proprio che dopo le semifinali raggiunti da Cecchinato l'ha detto lo stesso Fognini nel 2018 a Roland Garros qualcosa sia successo l'ultimo esempio della scorsa settimana ne parlavamo prima di questa domenica il San Remes Gianluca Magher è arrivato in finale partendo dalle qualificazioni e battendo soprattutto il numero 4 del mondo TM cosa assolutamente giocando un grandissimo torneo Magher io l'ho visto giocare l'anno scorso a Vicenza mi aveva impressionato poi magari aveva alti e bassi ha vinto tre Challenger prima di quest'anno che è una cosa molto difficile perché i Challenger sono tornei che non sono molto seguiti a livello mediatico però per vincere un Challenger devi giocare veramente bene lui ne ha 23 si sta allenando molto bene a Sanremo con credo Cipolla e altri e Matteo Civarolo ha trovato una sua dimensione e di conseguenza sta dimostrando a se stesso e agli altri che può arrivare come ha fatto questa settimana appena trascorsa a giocare ad altissimi livelli ha una gran facilità gioca bene dritto e rovescio può servire ancora meglio di quanto non fa però è uno che potrà togliersi delle soddisfazioni ricordiamo che tra i primi 100 ci sono 8 italiani una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile assolutamente con l'ingresso di Magher sono tornati 8 erano 8 erano 7 sono tornati 8 certo quindi di buon auspicio anche questo suo questo suo torneo soprattutto questa sua escalation perché in una settimana ha fatto un balzo di 51 posizioni nella classifica ma lo vale perché se tu fai 51 posizioni battendo giocatori però lui in un ATP 500 è arrivato battendo a punto 1 tra i primi 4 del mondo quindi voglio dire tanto di cappello bravissimo sicuramente può giocare bene su tutte le superfici tra l'altro l'erba non so non so se abbia mai giocato però mi riferisco al cemento o comunque superficie dura e terra battuta può giocare bene qualche challenger l'ha vinto anche su superficie rapida quindi è un giocatore universale tra l'altro ha battuto Casper Rudd nel primo turno del torneo appunto di Rio de Janeiro Casper Rudd che era reduce dal successo nell'ATP 250 in Buenos Aires quindi giocatore caldo giocatore vero è anche lì grande testimonianza sicuramente sicuramente grazie Gianni Luca Saccagno parlavamo proprio di motivazioni e di spirito d'emulazione cosa può dare questo spirito d'emulazione in ottica di alta prestazione beh diciamo che avere dei modelli e confrontarsi con dei modelli aiuta perché ci danno dei parametri molto utili soprattutto in un'ottica del vedere come si possono sfruttare le stesse realtà quindi l'opportunità di seguire degli allenamenti specifici e consolidare quelle che sono i propri punti di forza i modelli aiutano per i parametri quindi per consolidare quello che funziona e rendersi conto che la realtà sognata non è poi così distante ecco un conto vedere un big dei primi tre fare un risultato e un conto vedere uno che è partito come me grazie Luca chiuderei con un pensiero su Marco Cecchinato ne abbiamo parlato semifinalista due anni fa al Roland Garros ancora ieri ha perso in questo momento riesce a giocare benissimo diciamo al suo livello o almeno al livello che ha dimostrato di poter tenere per un set e poi nel terzo spesso crolla è un discorso più psicologico psicologico io credo psicologico perché ricordiamo che lui è andato in semifinale a Parigi a Roland Garros quindi non l'anno scorso ma due anni fa perché battendo nei quarti di finale Djokovic però se voi fate attenzione il primo turno di Roland Garros lui stava sotto 2-7-0 contro un certo Copil che è un giocatore rumeno un buon giocatore e poi da lì riuscì a ribaltare il risultato e ad arrivare in semifinale magari non vale la semifinale di Parigi ma non vale neanche il giocatore che adesso è una via di mezzo perché lui è un giocatore che si esprime a differenza di quanto non abbiamo detto di Magher su una superficie forse sola la terra battuta è quella sulla quale lui può avere migliori risultati mentre sul veloce fa un pochino più di difficoltà però comunque è giovane ha tutte le carte in regola per ritrovare fiducia e non è detto che già quest'anno non riesca a vincere un torneo magari non un major ma un ATP 250 o fare 4-5 risultati consecutivi che gli diano fiducia e che lo riportino tra i primi 50 che secondo me è una classifica nella quale lui può stare bene allora ringraziamo tantissimo permettemi una cosa le ATP Finals le ATP Finals a Torino sono un evento straordinario per la nostra regione io sono veramente felice che si possano disputare qui a Torino ho visto grande entusiasmo tra le autorità locali dalla Feder Tennis persona della persona del presidente Binaghi allo stesso governatore della regione Cirio che conosco bene che è una persona per bene che è un grande appassionato di sport e sicuramente io credo che sarà un evento straordinario non soltanto per Torino e per il Piemonte anche ma per l'Italia in generale e allora grazie a Gianni Oclepo grazie per questa presenza per aver illuminato la nostra trasmissione ringraziamo lo staff della nostra trasmissione alla mia destra staff che come sempre ha analizzato i temi della puntata l'appuntamento è per martedì prossimo grazie per averci seguiti e buona serata a tutti grazie grazie a tutti